Non si può parlare di arte senza il suo sistema. Nuovi protagonisti e nuove professionalità intervengono rendendo il sistema dell'arte più complesso ma completo. Figure sempre più specializzate e settorializzate in una gestione contemporanea intervengono su aspetti come il diritto all'autore, la commercializzazione, la contrattualistica, i passaggi generazionali, la certificazione, la fiscalità, la digitalizzazione ed infine anche la riproduzione. Il maggiore coinvolgimento di professionalità e tecnologie diverse ha definitivamente sancito l'evoluzione del sistema dell'arte, oggi in grado di dare vita a dinamiche e processi capaci di coinvolgere i molti protagonisti dell'arte. Artisti, galleristi, curatori e critici stanno sempre più diventando parte integrante e consapevole di un sistema dell'arte, con ingranaggi e meccanismi finalmente più trasparenti grazie anche alla facilità all'accesso delle informazioni in rete. Il sistema arte, con professionalità e i propri servizi, oggi è quantificato in un valore di mercato di circa 20 miliardi di dollari all'anno, su un patrimonio di beni che si prevede per il 2026 quantificabile nell'astronomica cifra di 2,71 trilioni di dollari. Sono le attività di servizio di cui meno si parla a concorrere al sostegno del mercato più complessivo, rivestendo un ruolo fondamentale con le molte professionalità. Lawrence Holloway, critico d'arte e ex curatore del Guggenheim Museum di New York, nel 1972 scrive Che cosa comprende il termine vago mondo dell'arte? Comprende opere d'arte originali e riproduzioni, testi critici, storici e informativi, gallerie, musei e collezioni private. Si tratta di una somma di persone, oggetti, risorse, messaggi e idee, include monumenti e feste, estetica e inaugurazioni. Questo è quello che ha scritto Holloway, è vero e oggi è ancora più attuale. Non esiste, forse non è mai esistito, artista che non fosse legato, seppure in modi diversi, ad un proprio sistema, frutto e immagine stessa della società del tempo. Anche gli artisti raccontati nell'immaginario collettivo, come ribelli, indipendenti, rivoluzionari, hanno sempre fatto comunque parte di un sistema arte, loro malgrado anche quando lo combattevano. Oltre alle figure note di artisti, galleristi, collezionisti, storici dell'arte o direttori di musei e fondazioni, all'interno del mio libro, Professione Arte, troverai le figure delegali, fiscalisti, wealth manager, degli esperti di art learning e ancora specialisti in comunicazione, conservazione, trasporto e assicurazione esclusivamente di opere d'arte. Il sistema dell'arte coinvolge numerose e diverse professionalità che intervenendo per la fruizione, valorizzazione, conservazione e tutte le vendita di oggetti e opere d'arte hanno dato vita a un mercato mondiale, diventato miliardario. In questo contesto, estremamente articolato, per essere un artista, un collezionista o un professionista di successo, è fondamentale conoscere non solo i protagonisti del mondo dell'arte, ma anche le dinamiche che ne regolano l'andamento e il suo mercato. Le nuove tecnologie, i social network, gli innovativi modelli di business e le inedite strategie stanno rivoluzionando un sistema basato su solide abitudini, creando così nuove opportunità e soprattutto nuove professioni. Conoscere tutto questo permette di entrare nei meccanismi del sistema dell'arte, un dinamico processo in divenire, dove il coinvolgimento di opere, artisti e professionisti prevede ancora lo sviluppo di nuove figure di operatori, di inediti settori e servizi. Io sono Andrea Concas e tutto quello che vuoi conoscere sul sistema dell'arte 3.0 lo troverai nel libro Professionale, la prima guida per chi dell'arte vuole fare la sua professione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!